Buongiorno a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste. Oggi in questo breve video vi mostrerò come sia possibile integrare i flussi informativi provenienti da Twitter nella Darwin di Direkta, nella nuova piattaforma Darwin di Direkta. Questo perché? Perché, come molti di voi sapranno, oggi Twitter è una fonte di notizie assolutamente indispensabile. Talvolta e spesso addirittura riesce ad anticipare, ad essere più sulla notizia, più tempisticamente avanzata rispetto ai canali tradizionali e moltissimi, per questo, trader professionisti e trader in generale utilizzano Twitter come primaria fonte di notizie. Ora, sapete che nella Darwin di Direkta, così come nelle piattaforme tradizionali di Direkta, è presente un tool per le notizie, che vedete qui, nel quale è possibile inserire gli RSS feed, vedremo tra un attimo come. Quindi, e per poter seguire i flussi provenienti da Twitter, basta inserire gli RSS feed provenienti da Twitter nel tool notizie presente in Darwin e, ripeto, anche nelle piattaforme precedenti a Darwin offerte da Direkta. Ora, il problema però sta nel fatto che poco più di un anno fa sostanzialmente Twitter ha rimosso la possibilità di ricevere gli RSS feed dei vari utenti o ricerche o quant'altro, anche se è rimasta con un piccolo workaround, con un piccolo trucchettino, la possibilità di accedere, anche se in maniera tutto sommato limitata, ma utile ai nostri scopi, ai flussi RSS. Prima però volevo dire due parole e chiarire a voi, o a chi non lo conoscesse, che cos'è un hashtag Twitter. Questo perché? Perché gli RSS che oggi Twitter permette sono soltanto quelli legati ad un singolo hashtag. Quindi è prima bene chiarire, ripeto, a chi non lo sapesse, cos'è un hashtag e come viene utilizzato in Twitter. Da Wikipedia vediamo che l'hashtag è letteralmente definito come messaggi brevi che possono essere etichettati con l'uso di uno o più hashtag, appunto, che sono delle parole o frasette precedute dal simbolo cancelletto. Quindi, per esempio, se io vado a fare una ricerca, come vedete qui ho appena fatto, sull'hashtag finance, vado a trovare tutti quei tweet che, a prescindere da chi li ha scritti ed erogati, contengono appunto quell'hashtag. In questo esempio, appunto, finance, poi l'hashtag può essere profstay, l'hashtag può essere, come vedete qui, money e quant'altro. Quindi è molto utile per fare delle ricerche mirate perché, e di nuovo, per esempio, se io volessi avere tutte le notizie che contengono l'hashtag money, prescindendo dall'utente che le ha erogate, tutti i tweet, basta cliccare o comunque mettere nella barra di ricerca l'hashtag di riferimento e si troveranno, ripeto, a prescindere dal fatto che l'utente si segua o no, tutti quegli hashtag che contengono la parola money. Ecco, è importante comprendere questo perché Twitter permette ancora, e come ultima cosa, perché gli altri RSS feed, gli altri feed sono stati tutti tolti, di accedere ai feed per hashtag. E quindi, andando adesso alla nostra Darwin, andremo a vedere come inserire i singoli feed mettendo la chiave di ricerca, come chiave di ricerca questo hashtag, quindi questa parolina magica, che poi è quello che di volta in volta ci può interessare. Allora, sul tool delle notizie, che potete, se non ce l'avete ancora aperto, visualizzare trascinandolo dal cassetto tessere, in una zona libera dello schermo, facendo clic destro nella barra superiore dello stesso, accedete alla voce gestisci elenco fornitori, inteso come gestisci elenco fornitori di notizie. Qui troverete una serie di fornitori predefiniti che Directa vi propone, ma qua sotto sarà possibile appunto immettere l'indirizzo RSS appunto del feed di un nuovo fornitore di notizie, che può essere un qualsiasi feed RSS a vostra scelta, e quindi anche, se lo desiderate, se lo ritenete utile, un RSS proveniente da Twitter. Come vedete, io utilizzo quasi esclusivamente RSS provenienti appunto da Twitter, con gli hashtag che di volta in volta possono essere appunto profste, è quello che metto ai miei personali tweet, trading è un hashtag più generale, più generico, che possiamo, se volete, andare anche a vedere subito su Twitter, mettendo cancelletto trading, e saltano fuori appunto tutte quelle notizie legate al trading, poiché appunto chi l'ha scritta o chi ha twittato quella particolare notizia, ha inserito appunto l'hashtag trading. Ecco allora che inserendo in modo molto semplice una particolare stringa, un particolare indirizzo, è possibile inserire nel vostro elenco di notizie in Darwin, tutti gli hashtag che desiderate, che vi fa più comodo seguire. Allora, la stringa è un pochino complessa, la scriverò poi anche nei commenti del video, in modo che possiate copiarla e incollarla, e alla fine, dopo questo per 123, che sarebbe poi il codice corrispondente al cancelletto, e che quindi è necessario lasciare, potrete inserire al posto della parola hashtag appunto il termine che volete ricercare. Quindi se ad esempio io volessi avere tutti i tweet che riguardano l'oro, potrei inserire al posto, e dopo il 23 della parolina hashtag, il termine gold, faccio aggiungi, quindi la Darwin va ad aggiungere, lo vedete qui, ai vari flussi RSS, anche l'ultimo che ha come chiave di ricerca appunto gold, e vi ritroverete nella vostra serie, eccola qua sopra, di ricerche Twitter presente automaticamente in Darwin, anche tutto quello che riguarda l'hashtag gold, e quindi probabilmente, andiamo a vedere su Twitter, tutte le notizie sull'oro come commodities, e che quindi possono sicuramente influenzare il discorso trading. Ovviamente gold è una parola comune, che vale anche per altre tematiche, quindi si trovano anche, è ovvio, non solo notizie legate all'oro, perché è una parola di uso comune, però vedete che la maggior parte sono assolutamente attinenti a quello che ci interessa. Nello stesso modo, se uno volesse seguire quindi tutto quello che riguarda l'argento, si può mettere come hashtag silver, e a quel punto, inserendo nell'elenco fornitori, un nuovo flusso, al polso della parolina hashtag mettiamo appunto silver, si può mettere Fiat, si può mettere Unicredit, si può mettere qualsiasi cosa possa in qualche modo interessarci, e aggiungendo il feed, automaticamente vedrete qui tutte le notizie, o meglio i tweet, che hanno l'hashtag silver. Quindi è molto dinamico, e vi permette appunto di avere integrato perfettamente in Darwin, tutti quei flussi di notizie, tutti quei tweet, che riguardano particolari hashtag, che quindi di volta in volta si possono inserire, o modificare sempre nello stesso modo. Dalla barra in alto del tool notizie, gestisce elenco fornitori, mettiamo che le notizie ad esempio sul server non mi interessino più, vado a rimuovere questo flusso RSS, e poi eventualmente, sempre con la solita stringa, che ripeto troverete anche da copiare e incollare nei commenti di questo video, potrete inserire qualsiasi cosa vi possa interessare, quindi ripeto, avessi delle notizie per quel giorno, un particolare interesse alle notizie su Fiat, potrei mettere come hashtag Fiat, aggiungerlo ai nostri flussi, nel tool di notizie di Darwin, ed ecco che mi salterebbero fuori, insieme agli altri, anche tutti quei tweet, che riguardano e hanno come hashtag, la parola Fiat. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, sono certo che, come del resto io stesso, troverete molto utile, questa integrazione, dei tweet, nella Darwin, quindi direttamente nella vostra piattaforma di trading online, e sono certo che saprete come utilizzarlo al meglio.